La classe seconda B ha realizzato un laptop per il progetto sull'ambiente. La nostra terra ci lancia un grido di aiuto! Sono ammalata, mi serve un dottore che mi curi con amore. Quei dottore, sai chi è? Siamo tutti noi, compreso te. Per salvare la terra dobbiamo riciclare la plastica, il vetro, l'umido e la carta. L'acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa. Non sprecarla nella doccia e conservane ogni goccia. Per non sprecare l'acqua bisogna chiudere il rubinetto quando ti lavi venti. Farsi la doccia invece che il bagno. Non utilizzare l'acqua potabile per non affiare le piante e non sprecare l'acqua perché prima o poi finirà. Mentre giochi con i colori puoi scoprire nuovi valori, il rispetto dell'ambiente, della terra e della gente. Per aiutare la terra, vai in bici, non calpestare le aiuole. Rispetta tutti i suoi abitanti, non buttare carta a terra. La natura mostra il bisogno imminente di persone intelligenti che rispettino il mondo santo. Ricordiamoci di rispettare la terra sempre! Ricordiamoci di rispettare la terra! Grazie a tutti! Grazie.